Sono Valentina De Palma, personal chef, mi occupo di catering, anzi mi piace dire unconventional catering, qualcosa di un po' diverso, alternativo, e di eventi come questo, che è Cinegusto, che per me è il mio quarto figlio, io ho tre figli veri e questo è il mio quarto figlio, di cui sono veramente fiera, che è una serata che facciamo ormai a Taranto da tre stagioni, questa è la terza stagione, ed ha questo connubio vincente tra cibo e cinema. Cinema che ovviamente parla di cibo, parla di chef, di grandi chef, di piccoli chef, di storie intorno a una tavola, delle famiglie, stasera per esempio parleremo proprio del Pranzo della Domenica, un film italiano di Carlo Vanzina, e prima del film, con dei piatti abbinati ed in tema al film stesso, c'è una degustazione formata appunto da tre piatti, una specie di antipasto, un piatto principale e un dolce, e abbinati ai vini delle cantine del territorio, che devo dire con grande passione e amicizia credono in questo progetto e mi accompagnano, e accompagnano me e il mio staff in questo progetto. Il Cine Gusto è un momento conviviale, molto carino e divertente, la cosa funziona proprio per questo, in questo cinema, che è il cinema Bellarmino, che è un cinema al circuito d'autore, così accogliente, così familiare, che ha reso questo connubio, questa esperienza veramente vincente, e quindi c'è gente che viene anche da sola, perché poi si crea un'atmosfera così conviviale, nel momento della degustazione, del mangiare qualcosa insieme, assaggiare, assaporare anche piatti diversi, abbinati appunto ai vini del nostro territorio, e poi ci si siede tutti insieme, dopo aver chiacchierato in maniera rilassata, a vedere dei film che parlano di cibo, in maniera di solito abbastanza disincantata e leggera, perché insomma dopo aver mangiato e bevuto i film troppo impegnati non ce li possiamo fare a farli, e poi si va a casa tutti felici e contenti.